Dove siamo? Al cimitero di Meta Vista Mare Osserviamo una tipica contadina sorrentina Che recupera i suoi frutti dall'orto Amici ci troviamo a Castellammare nel rione Scanzano Dove stiamo andando Sara? Diciamo la copia del re delle graffe La copia del re delle graffe non sappiamo potrebbe anche essere più buona Sara com'è questa graffe? Buonissima Ciao tu sei un elfo di Babbo Natale Amici del mio viaggio a Seriano Oggi vi mostrerò il bagno più bello del mondo O salve A chi mi chiede perché vado invece rispondo così A chi mi chiede perché vado invece rispondo così Tu non stai bene con la testa Ed è qui che gli antichi romani Amici del mio viaggio a piano di Sorrento benvenuti a Shanghai Il paese più trafficato del mondo C'è un po' di rumore Ehi Claudia, Silvia andiamo giù alla marina di Cassano? Ok Prendiamo l'ascensore? Ok Bello abbiamo preso l'ascensore ed ora dopo aver fatto un salto al centro della terra Siamo arrivati qui dove c'è la luce e la fantastica marina di Cassano Così chiamata perché quando c'è stato il terremoto qui non si è rotto niente Quindi Cassano mentre sopra è Caruotto Perché si era rotto tutto Sì Ogni anno a Natale un Pandoro muore Diventare Pandoro Vila Assassino Benvenuti nella mia cucina Benvenuti nella mia cucina Ehi Claudia cosa facciamo? Il Pandoro Vila Quanti mi prendono in giro? E se ne abbiano con me perché ho messo santa santa Basta neve Allora voto da 1 a 10 1 Prende il Pandoro Village è il più brutto della storia Permesso Antti Per la tua vita Non si è piaciuta Anche a mia cucina Per la tua vita Per la tua vita Errò Il Pandoro Qui mi prendono in giro Per la tua vita Per la tua vita Lei ce l'ha il Green Pass? Ehi, non scappi! Scusi, ma è uscito il nuovo iPhone? Scusi, ma è uscito il nuovo iPhone? Non sei o che, non sei o che, no! Non è un'altra cosa, non è un'altra cosa! Non è un'altra cosa! Non è un'altra cosa, non è una cosa!